Siamo con Simone Paredi, si è appena concluso il weekend di gare in Valdidentro per le atlete della squadra della Nazionale, quindi tanto volevo chiederti un tuo giudizio sulla prestazione delle ragazze. Direi abbastanza buono come squadra, poi abbiamo ottenuto tre podi con tre atlete diverse, quindi sono abbastanza soddisfatto del weekend. Peccato oggi che Ilaria è rimasta un po' raffreddata durante la notte, non ha potuto correre e con lei pensavamo di portare a casa magari la leadership nella Coppa Europa, ci è mancato questo. Ho visto molto bene ieri ancora Elisa, sia nella spring che nella distance, quindi adesso lei si è presa oggi un giorno in più di riposo per preparare il tour de ski. Greta anche lei sta abbastanza bene, un po' raffreddata ultimamente, però dovrebbe recuperare in breve tempo. Oggi mi aspettavo magari qualcosina di più da Lucia in classico, però diciamo che siamo sulla strada giusta, è abbastanza costante, gli manca un po' di avere risultato. Sono contento di Anna che ha tenuto il terzo posto in Coppa Europa oggi, molto bene, ed è rientrata le gare Caterina, che era 20 giorni che non correva, ha preso confidenza con i ritmi di gara, adesso vediamo durante il tour. Quanto è importante appunto il tour de ski, partendo proprio da chi magari ha gareggiato meno fin qui in Coppa del Mondo, mi riferisco soprattutto alle due più giovani, Caterina Ganz e Anna Comarella, e alla Sessi Ilaria de Bertolis che è appena rientrata. Sì, è abbastanza, allora se al tour stai bene, lo fai tutto ed esci anche in buona condizione. Se invece la condizione non è di quelle ottimali, forse è meglio puntare a qualche tappa e poi andare a casa e preparare le prossime gare. Con qualcuna faremo così e invece con qualcuna andremo fino in cima al Cermis. Sperando magari in un'altra top ten? Eh, quello sarebbe bello, ma è sempre difficile, vediamo un po' come si mette il tour. Vediamo, con alcune abbiamo già deciso dove partire, cioè da dove partire da Dobbiaco, ma dove fermarci. Con altre valuteremo strada facendo. Ecco, però l'ultima cosa che volevo chiederti, questi risultati di inizio stagione hanno fatto alzare un po' l'asticella anche alle stesse atlete, quindi una cosa anche questa direi molto positiva. Penso per esempio alla stessa Elisa, ma anche a Greta Loro. Adesso è quasi delusa, no? Perché fa un quindicesimo posto. Sì, a Davos dopo l'arrivo era abbastanza delusa da come era andata la gara perché cercava la semifinale. È tre volte che arriva vicino, vuol dire che ha preso consapevolezza delle sue qualità. Adesso speriamo che arrivi questa semifinale e che almeno si sblocchi. L'anno scorso se richiedavamo un quindicesimo posto Davos avrebbe firmato, quest'anno era un po'